Ed eccoci qui, buona domenica, cari amiche e cari amici, siamo qui come sempre puntualissimi per iniziare queste sei ore di diretta. Insieme a tutto il nostro pubblico un ringraziamento speciale, lo ribadisco di nuovo per l'ascolto di ieri, è stato un ottimo ascolto, noi vi ringraziamo. Allora, cosa devo dire ancora Max? In omaggio oggi che cosa diamo? Visto che siamo quasi in periodo di vacanze, poi per due settimane non ci vediamo. Oggi vi facciamo un ringraziamento per due carati 80, perno e scattino, amiche attenzione, per oggi vi faccio un ringraziamento per questi meravigliosi cerchi. Due centimetri di cerchietto, tutto traforato sul retro, qualità di zirconi eccezionali, per fermare, perché parliamo veramente di un paio di orecchini esagerato. Guarda, eh vabbè, ho fatto il danno. Tutto l'intero lotto, poi non dite, amiche, che non vi pensiamo, stiamo parlando di zirconi naturali, scendiamo. Belli, belli veramente. Fammi girare solo la mia collanina. È bellissima, guardate come risalta, guardate che luce, che luminosità. Microbuli in argento, rodiato in giallo per la collana, 50 centimetri di giro. Zirconi naturali eccezionali, bianchissimi, una croce, amiche, potete portare più corta, oppure più lunga, chamelle. Mamma mia che gemme, mamma mia che qualità. Bianca esagerata. Mamma mia, guardate. Guardate che luminoso, guardate che elegante. Un pendente veramente unico, amiche, lo state pagando nulla. 49 euro con la sua collana in argento, rodiata in giallo, microbul, che vanno a contornare tutta la maglia della collana. Guardate che croce. Ebbene, non si può pensare, bisogna solo confermare. 49 euro. Non voglio, scuse amiche, vi voglio attente. Grazie, Max. Ricchietta dal centralino. Ecco, ho fatto la mia. Guardiamoli insieme. Guardate che amore. 59 euro. Tennis, zirconi naturali, qualità eccezionale, con anello solitario e tappabuchino maggio. Guardate che completo. veloce a confermare, con i suoi orecchini in omaggio. Adesso vi incastro anche l'orecchino. ecco qui. Quattro carati di anello, quattro carati di orecchini e un tennis, amiche, che lo vedete da voi. È eccezionale. Non si sbaglia, amiche. Qui bisogna essere veloce a fare le conferme. Ma che cos'è, Max? Ma che completo vi state realizzando? A 59 euro, amiche, non si deve aspettare. Bisogna velocemente chiamare il nostro centralino e confermarlo, perché sapete che non sono lotti infiniti. Quindi mi raccomando, amiche, anche i maschietti, fate questo regalo, perché a 59 euro, tre pezzi. Come questi, più due pezzi in omaggio, non li trovate da nessuna parte. Cinque pezzi a 59 euro. Cinque pezzi a 59 euro. Vedo tutti i centralini impegnati. Continuate a confermare, amiche. Mamma mia, che gioielli. Mamma mia, che bracciale tennis. Morbido, elegante e raffinato, con una qualità di zirconi unica, morbidissimo, con un gancio di sicurezza notevole. Ora, argento ad alto titolo 925, zirconi naturali, per quattro carati. 49 euro, 20 centimetri di lunghezza, con due omaggi, non ne ho tantissimi, quindi veloce a confermare. Una decina di pezzi ne ho, non di più, morbido ed elegante. Mamma mia, che bracciale. Sono quattro carati di zirconi, Max. Guardate che luminosità. Allora, ne sono andati due, voglio sentire le conferme. Ne ho ancora otto. Anche vicino a bracciali, tutti diversi, guardate come risalta. Che luminosità dona? 49 euro. Allora, andiamo per sei ancora disponibilità. Sei disponibilità, poi sono terminati. Parliamo di zirconi per quattro carati, parliamo di argento ad alto titolo 925, parliamo di chiusura di sicurezza, parliamo di 20 centimetri per uno e mezzo. Davvero un bel bracciale, amiche. Non esitate. Credete a me. Non esitate, confermatelo. Vieni, Max. Mettiamola accanto.